Eccoci! Deve pagare? Purtroppo! Hahahaha! Cosa aveva? Allora, ho tre tramezzini e una co... bibita nera frizzante dolciastra. Bibita nera frizzante dolciastra normale o zero? Zero. Tre tramezzini e una bibita nera frizzante dolciastra zero sono sei e cinquanta. Pago con la carta. Ah, con la carta... Bene, allora, con la carta... Bancomat. Sì, 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 allora, con la carta... Dai, facciamo cinque euro e via. Ok, grazie. Ok. Mi dai cinque euro? Sì, se mi dai il post te li giro. Ma no, non hai cinque euro in portafoglio? Sì, ne ho anche cinquanta. Oh, perfetto. Sono qui dentro. Ma no, intendo, non hai cinque euro veri in carta. Ho questa di carta, se mi dai il post te li giro. Ma che palle, posso dirti eh? Scusa se mi permetto che è un po' di cattivo gusto. Cosa? Venire a pagare cinque euro col Bancomat? Ma chi sei, Elon Musk? Guarda che non serve essere ricchi per avere un Bancomat. Sì, sì, dov'è la tua Tesla, Elon Musk? Twitter, quando fallisce? Posso avere il post per pagare? Guarda, no, è che vedi ieri sera, no, è arrivato qua dentro il gatto. E penso, penso che lo abbia confuso per un topo, no? E l'ho portato via. Non è quello. Ah, bravo, bravo, che occhio, bravissimo. No, è che vedi ieri sera, no, è arrivato qua dentro un coccodrillo che gli ha dato un morso e che penso che si sia rotto anche. Si è rotto. Ma ti giuro, eh, beh, 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 andava benissimo fino all'altro giorno, no? Penso che si sia fuso, un fusibile. Posso dargli un'occhiata? Sono tecnico elettronico molecolare specializzato in POS. Che culo! E che penso che sia un casino. Ecco fatto. Caspita, cosa aveva? Era spento, ho premuto un tasto e l'ho acceso. Questa tecnologia? Già, posso pagare? Guarda, super volentieri. E che penso non prenderà benissimo, no, per via dei monti. Ma se siamo a Rovigo. Esatto, appunto. A Rovigo ci sono i monti. Perché non ci sono? Non mi pare. Sai dove si trova Rovigo? Non di preciso, ma non mi pare che ci siano i monti. Sicuro, sicuro? Mmm... No. Dai, dammi cinque euro in carta e siamo a posto. Ma facciamo almeno una prova. No, no, è impossibile. Ma dai. Meglio di no, per il nostro bene. Che palle, ma che ti costa? Che mi costa? Ah, e va bene, te lo dico io che mi costa. Se uso il post su cinque euro che incasso, pago tre euro di commissione, tre euro di tasse, quattro euro per la guerra in Libia, il canonerai, l'affitto e le spese processuali di Johnny Depp. Eh? Senza contare il corso di recitazione per imparare a dire che il posto non funziona, a quanto pare il denaro buttato. Scusa, ma da chi hai preso il post? Dalla banca Bassotti. Ah ah, che battuta da boomer. Sono tutte così le banche, è un magna magna. Ne hai viste altre? Ho detto che tutte le banche sono un magna magna. E i post bianchi? Un magna magna. E le app di pagamento senza commissioni sotto i dieci euro? Ho detto un magna magna. Ho capito. Per me è meglio il contante, che a parte il rischio di furto, di dipendenti furbeti, di calcolo errato del resto, il costo dell'assicurazione, il tempo perso per pagare, di trasporto del denaro, è gratis. Eh va bene, allora per stavolta, dato che sfortunatamente sono qui, ti pagherò in contanti. Grazie. Però ho solo questa banconota da cinquecento euro. Ma allora tu sei veramente Elon Musk? Yes, congratulations, you have scopered me, I'm Elon Musk, nice to meet you. Pazzesco. E questo è il resto. Thank you. Grazie a te, arrivederci. And the scontrin? Ah sì, giusto, lo scontrino, un attimo ecco, ora lo faccio, hai fatto benissimo a ricordarmelo. Ok. No, guarda, se uno mi chiede lo scontrino glielo faccio subito, ci mancherebbe. Yes, yes. È che di solito alla fine alla gente non serve a niente. It's for memory. Sì sì, ma è giusto, è che mi dispiace che poi subito viene buttato via. Aha. E non mi piace vedere tutto questo spreco di carta perché sono un ambientalista. Ok. Ecco fatto. Thank you. Happy Natal.